Laguna matata ragazzi, ben ritrovati del vostro ricchechepro89 Siamo tornati in una nuova partita di Rainbow Six Subito un bel pollicione in su, se no vi dimenticate In questa partita raggiungiamo il livello 50 Ma che 50 Signori, let's go Eh, digli ciao, mi piace la banana Mirko devi piccare, Mirko Esatto, esatto Vi fai lo spawnpick Lo faccio, me lo faccio, me lo faccio La casa a me Stanno qua regà Ve l'ho fingati, stanno sotto Eh certo, poi mi enculano il mio Occhio che questi, banana Guarda qua questo strozzo eh Occhio che fanno spawnkill Picks, box, brooks, banana, threats Ragazzi, sapete che oggi mi sento che faccio una strage Lo posso dire Oggi mi sento più fruto eh Oggi mi sento Veramente una cosa incredibile Madonna Oh, banana, che sta burga eh, banana La camera, raga Aspettami Forza Giuve Fatto uno Cominciamo L'ho massacrato Resta, 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 resta Oh, non mi resta L'ho veramente massac... Ma sai che significa massacrato? Dove lo vediamo? Eh, ma non si fa vedere Audio, audio, audio Eccolo E questo ce fa tutto e due Guarda, me lo faccio Ma dov'è? Dov'è? Non lo vedo Tassi, tu sorella Eh, ok, l'hanno atterrato, l'hanno atterrato Grande banana Eh, va bene ragazzi Eh, ma questo, chi cazzo? C'è Però non è giusto Io gli avevo sparato Non mi è morto Perché se no adesso gli è banana Eravamo Saran con te Ale non devi mollare Tutti devi bannare Perché abbiamo un segno nel cuore Ho trovato una bomba Ancora qua a Stana Guardate, ho da insultare questo Banda scalparell Sto bimbo nutella Ok, vieni con me sotto Vieni con me sotto Sto facendo un altro gioco Vieni con me sotto Ma siete malattie, ragazzi Leo, leo, vai Concussione pronta Adesso ho posto il primo a Leo E che cosa Vada come siete entrati tutti Mi piace Madonna, Leo, ti giuro ti amo Io no Vorrei farlo anche una kill Sniilko va davanti Va bene, ma ti un drone, no? No No, non c'è bisogno Ah, capisco Che bomba tira un drone Che bomba Secondo me c'è vanno il drone Lo so Dare scale Vado Prego Prego che Soccupato Eh no lo so Vabbè leo Non in bagno ci ne fanno attenzione Eccolo che Sinistra Velbo con lì Bravoli Alla tua sinistra Eh Tutto a sinistra però Non lì Tipo a sinistra Sinistra Non hai capito Iluzione con me Di me colpo, è guani Porco ciuda Eh Due colpi Dov'è 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 L'ultimo bagno L'ultimo bagno No Crippone Oh 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 Ciao Staron con te Non dobbiamo volare Abbiamo un video canale Eh Possiamo pure andare a dormire potevo esultare nell'unico momento che potevo esultare è così che si arriva al livello 50 che troia sto tremando ed è così che questa partita ha decretato il mio livello 50 andiamo andiamo a occhio al rick a dopo vai 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 porta giù raga per il rialtat dovremmo aprir qua vieni qua vieni qua che è il l'allero centrale capoglia leo ha fatto small kill niente lo puoi fa marco ma dov'è fatto uno vigil ma è la dentro era un po un attimo mirco trono eh si tanto uno si è ammazzato si ma tanto c'era checco si si vediamo dov'è in questa stanza qui c'è il ping 4 oia urca troia come sei morto marco da me veramente sento un casino pazzesco eh raga mi son caccato sotto ma rotto ma già le scale a sinistra quindi eh scale dovete porta sopra eh quindi a sinistra da dove sei morto tu come cazzo è possibile ma da qui ce n'è uno c'è vigil aspetta poi faccio vedere muovete aspetta si mirco si bravissimo da dietro si mirco si da dietro lì che non sapevo neanche che esistesse quella porta la te devo dire ma cosa sentite ah è nuova ecco ma so pesa un c***o quanto era nuova è nuova eh non c'è mai stata sta porta mai questo era un bel muro lì lì mirco si morto instant è lì è lì è lì e smoke rispari maronna mia manco si veniva ragazzi ma questo dindè è stato da dietro si cura che è perfetto è la gracia marco l'ha rotto disintegrato ma non è che partita come che bomba che stava l'assunno 3 alfredo meno male che se tu che sei un campione che costava per piantarti un colpo nella schiena e non sarebbe stato male 10 secondi arrivano da qui ragazzi eccoci muore 100 per cento scommettete guarda non è vero ok 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 cambia il caricatore calma 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 nuova ma siamo contattenti io non so aspfik ko voi dito marcus tu cloud leo dimmi vai a destra dove ho ammazzato hotel ok vabbè vado io vado a f***** guardami regà non piccate da banana eh da banana no veramente bravo banana non piccate è capitato qua da me che f***** ragazzi no banana vuole far matto ah mica va eh regà mamma mia regà questo per romperlo gli ho sparato nel backpack e 200.000 proiettili regà eh vabbè oh mi sto video mettilo sul canale per due giorni a fila no tre per tre giorni guarda che ti devo dire livello 50 tornato indietro signori spero che questo video vi sia piaciuto se fosse così mi raccomando pollice in su commentate condividete se non siete iscritti iscrivetevi al prossimo appuntamento al vostro dicembre 89 una delle pochissime partite dove ho fatto qualche cosa guardate gli app su di video pollice in su arrivederci ciao a tutti Grazie a tutti.